siamo in live buonasera buonasera a tutte le persone che si stanno collegando che si collegheranno nei prossimi minuti buonasera a tutti siamo alla terza puntata della rubrica contro informazione partita una settimana fa dove oltre andare a guardare un po in retroscena buonasera nicola buonasera cetti buonasera buonasera cara buonasera a tutti quelli che si stanno collegando buonasera valeria grazie grazie di cuore per seguire questa questo questo dibattito diciamo queste queste domande queste risposte che cerco di dare cerco di dare a voi innanzi la prima sera anzi la seconda puntata abbiamo grazie raffaele danilo ti segue ti stimo grazie di cuore grazie netti dai colleghiamoci che così possiamo che possiamo iniziare ci sono un sacco di argomenti perché qua seguendo tutto quello che accade in parlamento nelle stanze delle commissioni e nei chiacchiericci di corridoi del senato e anche della camera quando ci vado come ieri se è veramente un sacco di roba la seconda puntata io ho ringraziato quelli di della tv che avevano rilanciato alcuni pezzi e probabilmente ci hanno ehm propaganda live ecco probabilmente ciao Mimmo ci hanno dato anche una mano perché la seconda puntata ha avuto dei picchi di mille persone collegate contemporaneamente ciao Donatella ciao Cecilia state scrivendo già in tantissimi aspettate che almeno iniziamo a indicare gli argomenti stavo dicendo che eh nella seconda puntata se abbiamo fatto numeri importanti è perché in questa bulimia anzi no apatia altro che bulimia eh politica fare fare mille persone collegate contemporaneamente è veramente tanta tanta roba io stasera sto usando l'ipad a differenza delle altre volte quindi eh faccio un po' più fatica perché sono molto piccole abbiate pazienza i commenti comunque partiamo terza puntata di controinformazione un sacco di argomenti abbiate pazienza se il primo argomento ciao Rita il primo argomento riguarda il sottoscritto purtroppo ciao Antonella purtroppo come avete visto eh il ministro della pubblica amministrazione Brunetta ha annunciato insomma mi ha querelato ha querelato il sottoscritto perché ha detta sua io l'avrei l'avrei diffamato prima di farvi vedere quelle quelle notizie io volevo innanzitutto chiedere a voi cosa ne pensate perché io vi inquadro ve l'ho già fatto anche nella seconda puntata eh trovi in quadro l'argomento però aspettate scusate prima vi vi faccio l'elenco abbiate pazienza ovviamente quindi Brunetta che querela sottoscritto poi ci sono c'è un articolo credetemi che è strepitoso del giornale che parla della casta dei grillini che occupa le librerie italiane ciao Rosa ti ringrazio ti ringrazio anche a me ti ringrazio infinito vi ringrazio infinitamente di seguirci cercate anche di condividere perché è molto importante ci sono pochi 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 contenuti informativi ehm diciamo non tradizionali e il nostro vuole essere proprio uno di questi il terzo argomento è quello delle sparate di Salvini sul nucleare e poi ci sono le restrizioni al covid che stanno aumentando in tanti paesi europei ecco qua allora partiamo primo argomento abbiamo detto querela del ministro della pubblica amministrazione Brunetta al sottoscritto prima di chiedervi che cosa ne pensate ovviamente Francesco Salerno mi dice Brunetta dovrebbe vergognarsi allora io devo stare attento però eh perché qua ragazzi ogni volta che faccio il mio dovere né più né meno che dico quello che faccio e denuncio perché ragazzi siamo portavoce del movimento cinque stelle non diciamo di un partito qualsiasi dobbiamo siamo qua a lottare per la trasparenza per la legalità insomma ogni volta che colgo nel segno eh qualche qualche cosa mi torna indietro la circa due mesi fa ho ricevuto un'altra querela non so ancora da parte di chi perché sono in corso le indagini e oggi ricevo la querela di Brunetta per questa roba qua allora vi leggo testuali parole per evitare che mi me ne faccia una seconda che ha detto pochi giorni fa in una riunione in una riunione in una conferenza eh con la presenza di associazioni imprenditori e ehm del della parte pubblica dove dice testuali parole ascoltatemi bene poi vi prego fatemi magari qualche domanda dice Brunetta in riferimento parlando dei controlli economici delle attività economiche insomma i controlli fiscali che vengono fatti che lo Stato fa che la pubblica amministrazione fa alle imprese per evitare per che accadano cose brutte dall'evasione fiscale al mancato rispetto delle norme eh sulla sicurezza a tutte quelle regole amministrative che un imprenditore fa deve rispettare Brunetta con i tamponi la telefonata prima dell'arrivo della finanza ha dimostrato che ha sempre addosso diciamo l'odore di Berlusconi Raffaele ci dice questo allora fermiamoci un attimo vi leggo le eh proprio quei eh quei venti parole interessate Brunetta due punti aperte le virgolette prima di ogni controllo ci sarà una telefonata finalizzata a programmare il controllo a specificare la natura del controllo a individuare i contenuti del controllo a individuare i documenti necessari per quel controllo allora queste sono le parole ragazzi ragazze sono le parole che ha detto Brunetta in pubblico pubblicamente e nei cui confronti io rispondo dicendo ma non è che se tu chiami prima e annunci il controllo e dici qual qual è l'argomento qual è qual è il documento perché vuoi controllare quando lo vieni a controllare come lo vuoi controllare forse che forse che forse venga ci sia qualche rischio che il controllo non porti a niente forse e niente Brunetta quindi esce specificando tutta una una serie di cose e di fatto e di fatti mi querela volevo farvi vedere proprio il petto del del giornale dove dove Brunetta se riesco a collegare a farvi a condividervi la pagina dell'agenzia di N Cronos disegno di legge concorrenza Brunetta querela Torinelli proviamo a mettere la sua impressione e lui che cos'è che dice dice non si tratta di eliminare controlli ma l'esatto contrario qualunque altra lettura è falsa e disinformata e poi dice ancora bisogna renderli più efficaci eccetera 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 allora io dico quello che vi ho appena letto va benissimo siamo tutti d'accordo nel dire che i controlli inutili vanno eliminati e e deve essere semplificata la vita delle imprese non è che ci siano due pubbliche amministrazioni che vessano l'impresa facendo gli stessi controlli Cetti Montemurro ci dice e che controllo è il controllo deve essere a sorpresa e no è scontato che deve essere a sorpresa e quindi lui ti dice l'esatto opposto Ida ci dice non è per leggi un reato usare la minaccia di querela per dettire l'informazione e guardate questo questo è quanto devo bisogna stare attenti perché questo è il mondo molto spesso tra l'altro chi fa queste azioni queste querele sono proprio quelli che hanno che hanno più soldi e cercano di magari di andare ad agire contro quelli il video che ho fatto ragazzi penso che sia 200.000 visualizzazioni sulla mia pagina Facebook probabilmente anzi sicuramente l'avranno detto al ministro ha visto che questo video ha è stato molto divulgato e quindi ha fatto la sua azione sa che noi del movimento ci tagliamo gli stipendi che non abbiamo messo via quei soldi che avremmo potuto che potuto mettere quindi la situazione è questa non è per niente facile e quindi questa questa è la situazione ma che dobbiamo fare dobbiamo per forza dobbiamo per forza andare avanti come fai dobbiamo andare avanti perché non possiamo farci intimorire e dobbiamo continuare a denunciare le cose che accadono però vi domando questo rispondetemi a questa domanda ma secondo voi in un paese normale il ministro della pub ministro della repubblica che dichiara questo che prima bisogna telefonare di fare il compere prima di fare il controllo annunciare il controllo dire su che cosa verte controllo ma forse forse non si sarebbe dovuto dimettere o no non ci sarebbero dovuti essere un sacco di organi di informazione scandalizzati da queste da queste dichiarazioni io vi faccio vedere di fatto praticamente mi pare chiedo scusa se sbaglio l'unico organo di informazione che ha riportato fortemente un paio probabilmente ma io ne ho trovato solo uno che è il fatto quotidiano se riesco a condividervi il pesto eccolo qua il video di brunetta in cui spiega gli imprenditori che controlli a sorpresa verranno aboliti inaccettabili virgolettato di brunetta hanno invasività insopportabile e questo è fare informazione ragazzi quando uno spara una dice una roba di questo tipo devo stare attento dice una roba di questo tipo ma quantomeno per onestà intellettuale deve scusarsi deve rettificare la detta però c'è inconfutabile non è che uno dice ha detto che vogliono semplicemente ridurli controlli ma farli meglio ha detto che prima li chiami perché cosa ci devi fare però arriva arriva la querela volevo chiedere raffaele rapisarda brunetta brindano gli evasori è questa la conseguenza ministro brunetta lei non deve querelare uno che si è accorto purtroppo uno dei pochi che si è accorto che quello che ha detto non sta né in cielo né in terra lei magari qualche valutazione di dimissione la dovrebbe fare ma quantomeno dica che quella roba lì che ha detto è sbagliata si scusi in questa bisogna assumersi le responsabilità magari c'è qualche opinione favorevole perché se è stato detto ma è favorevole a queste cose ma alla fine l'ha detto e quindi e quindi bisogna quantomeno scusarsi se non ci sono altre domande visto che questa è la situazione che vi ho già raccontato io vorrei passare un altro argomento e qua vorrevo chiedere a voi cosa ne pensate di tante notizie che girano volevo farvelo vedere in sovraimpressione sto parlando di un articolo mi pare di ieri che ha fatto il giornale punto it dove nel titolo e parla dei dei guardate qua qua veramente ragazzi c'è qua c'è da prenderla sul ridere perché arrabbiarsi gli facciamo semplicemente un favore io vi domando leggete questo guardate la casta dei cinque stelle adesso occupa anche le librerie ma posso chiedervi a voi cosa rispondereste cioè qua c'è gente che si è tagliata come sottoscritto centinaia di migliaia di euro di soldi che avrebbe potuto legittimamente prendere ma avevamo fatto preso un impegno ci tagliamo gli stipendi io lo faccio dal 2013 l'ho fatto da ministro e lo continuo a fare lo farò fino all'ultimo giorno in cui sarò un portavoce del movimento e quindi come faccio ad essere casta io non sono casta qua il movimento cinque stelle non ha mai rubato un centesimo ha restituito quello che gli spetta sia come gruppo come come forza politica decine di milioni di euro che mi viene decine di milioni di euro di soldi che avremmo ricevuto come rimborsi elettorali per i milioni di voti presi in questi anni e i soldi degli stipendi le doppie le indennità di carica e questi ci dicono casta ma poi non lo so ma se poi dicono a me casta con tanto me mettono me perché il libro ovviamente l'hanno scritto in tanti giustamente è perché un un esponente del movimento cinque stelle che fa che fa politica che in parlamento quello è deve deve fare deve dare il massimo deve essere trasparente io leggo mario rossi che ci dice il giornale a chi appartiene facile sapere da chi vengono gli attacchi il giornale appartiene lo sapete benissimo tutti non lo dobbiamo ricordare alla famiglia berlusconi però la cosa interessante se non riesco a trovare altre altre vostre domande la cosa interessante è come quello che vanno a scrivere che cosa scrivono maria fungalli mi dice io risponderei compriamo tutti i libri dei politici del movimento cinque stelle forza è anche secondo me anche secondo me perché abbiamo sempre avuto la libertà di raccontare le cose come effettivamente erano però se vai a leggere se vai a leggere quello che che in questo pezzo veramente c'è da ma torinelli in veste di politico scrittore si ritrova in folta compagnia l'ultima trasformazione dei cinque stelle dice questo pezzo del giornale punto it da anticasta in piazza nei palazzi a casta nei palazzi e pure nelle librerie il mio libro ragazzi per chi l'ha comprato vi ringrazio infinitamente adesso tutto l'altro abbiamo fatto la versione con con la copertina rigida il mio libro non è neanche nelle librerie si compra solo su amazon perché da cittadino nell'istituzione ho voluto anche fare il cittadino che racconta una storia di vita una testimonianza e lo vendo l'ho venduto su amazon e lo vendo su amazon così non occupo neanche spazio nelle nelle librerie lascio spazio agli altri perché l'ho autoprodotto auto pubblicato me la sono scritto tutto da solo e quindi che cosa che che casta siamo poi ovviamente se la prende con vincenzo spadafora che anche lui è uscito uscirà con un libro se la prende con con luigi di maio ovviamente ricordando stupidaggini come la gaff john bolton invece del chiamato michael bolton insomma io non lo so ragazzi quello che vi dico veramente se non avete domande o commenti particolari da fare è andate a comprare i libri di ragazzi che hanno dato e stanno dando l'anima chi più chi meno in parlamento per difendere la gente che sta fuori dal dal palazzo questa è la la situazione e queste cose qua devono dare a tutti voi a tutti noi a me la danno di sicuro la conferma che se continua ad attaccarsi così significa che un po' di forza politica ce l'abbiamo ancora eleonora mi dice bravo io l'ho comprato grazie mille spero anche che tu abbia avuto modo di leggerlo e che vi sia che vi sia anche piaciuto ma andiamo avanti ragazzi spero che che eccoci qua altra cosa altro argomento molto importante è quello di salvini raffaella renzi dice leggete il libro di toninelli è un libro sincero sider sincero e rivelatore grazie infinite significa che il letto mi dai una una grandissima una grandissima felicità per me è stato è stato un bello ma molto 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 impegnativo anche dal punto di vista emotivo scriverlo andiamo a parlare a se avete voglia eh qua però mi dovete dare una mano con con le domande salvini salvini lo conoscete tutti siamo oggi ha fatto una conferenza stampa dopo una riunione con i suoi ministri e che cosa fa salvini ve lo faccio vedere subito ve lo metto in sovraimpressione salvini fa una proposta leggetela qua stiamo lavorando la manovra di bilancio vero lo sapete stiamo cercando in tutti i modi di estendere super bonus anche a 2023 di rendere ancora migliore il reddito di di cittadinanza cioè stiamo voi ci conoscete stiamo facendo tutte cose per avvantaggiare la collettività non per avvantaggiare una lobby chi vuole avvantaggiare salvini il nucleare cioè ma io mi viene veramente da non 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 ti puoi più neanche non ti puoi più neanche arrabbiare io vi chiedo che cosa ben sapendo anche la risposta ma in un periodo in cui si parla di transizione di transizione energetica ambientale angelo dice no salvini risparmiamocelo ormai è il tramonto sono d'accordo angelo però va in giro in tutte le tv è sempre presente ovunque e purtroppo condiziona noi dobbiamo dare una mano quelle persone che lo sentono dire cioè quelli là sono alla cop 26 per parlare di crisi climatica stanno facendo non stanno portando a casa il risultato che che serve per questa rivoluzione verde per salvare le persone da da un futuro incerto a causa della crisi climatica quindi siamo indietro sulle rinnovabili siamo indietro sull'eolico siamo siamo indietro come europa e come pianeta indietro tantissimo però siamo indietro su un percorso no sull'energia rinnovabile l'energia prodotta da fonte rinnovabili il sole il vento e l'acqua quelle energie che di fatto non inquinano e che fa rosa mi dice ragione rosa toninelli mi rifiuto di fare la domanda a salvini ma tu hai ragione però dobbiamo anche pensare che lui parla una certa popolazione che non ha quegli anticorpi cettici dice il nucleare ma non esiste salvini fuori dal mondo esatto hai centrato l'argomento chi propone il nucleare è fuori completamente dal mondo dobbiamo piantare centinaia di migliaia di miglia di miliardi migliardi di nuove di nuove piante perché assorbano l'anidride carbonica e perché limitano l'effetto serra che l'anidride carbonica fa cioè è la cosa più importante da fare e dobbiamo contemporaneamente inquinare di meno come facciamo visto che abbiamo bisogno di energia con l'energia rinnovabile con noi cittadini con dei comportamenti che vadano ad impattare il meno possibile chi ha la possibilità si compre una macchina elettrica qualche uno di voi ce l'avrà sono convinto e sia si tenga un comportamento tale da limitare il consumo di carne aumentare il numero il consumo di di vegetali sappiamo che gli allevamenti intensivi sono tra le principali cause di emissione di gas ad effetto serra e l'effetto serra produce questo qua ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando prodotto propone il nucleare e che cosa mi importa che lo faccia macron in francia che ha oltre 40 centrali nucleari di vecchia generazione non è che se uno fa il furbo che sbaglia devo dire è bravo e sbaglio anch'io no se sappiamo che di essere nel giusto io non penso che se qualcuno è d'accordo nucleare ci dico qual è la motivazione ma siccome sappiamo di essere nel giusto ma non possiamo andare avanti sulla nostra strada delle energie rinnovabili e cercare di convincere anche gli altri paesi a partire da quelli eh confinanti con l'italia che non è la soluzione ma mi pare eh ve lo chiedo avete sentito anche voi che in giappone non sanno più dove mettere dove mettere le scorie nucleari questi qua parlano di mettere addirittura in mare cioè a salvini non vi verrebbe da domandare ma tu non è che magari hai paura che quando vai con le tue centrali nucleari tra dieci anni a milano marittima ti vai a tuffare in un mare contaminato dalla centrale o meglio dalle scorie nucleari che sono stati ma siamo ma di cosa stiamo parlando dobbiamo continuare dobbiamo continuare a lottare sulla sulla transizione ecologica che strade ci sono avete avete domande perché io su questo non voglio neanche dilungarmi perché veramente mi pare mi pare una cosa inaccettabile avete sentito mentre aspetto le vostre domande questa notizia durante la glesgo la cop 26 che sapete benissimo essere quel luogo dove si sta discutendo del futuro delle nostre dei nostri figli e non di chissà quante generazioni a venire la maggiore delegazione la maggiore delegazione vivendo a dire ma ma per per evitare di piangere la maggiore delegazione che ha partecipato la cop 26 quindi portatori di interesse sono quelli del settore dei fossili che vanno lì a cercare di convincere chi vuole invece puntare tutto sulla sulle rinnovabili e che cosa fa vanno lì ma chi li ha fatti entrare ma perché li hanno fatto non vi domandate perché le hanno fatti entrare e quindi e quindi stiamo stiamo lottando su questo non è facile perché perché siamo al governo con con questi qua e quello che possiamo fare è evitare il peggio è evitare il peggio piera ci dice il giappone infatti sversamento in mare le storie delle centrali nucleari nessuno si è potuto opporre e questo è si trovano in quella situazione perché a differenza nostra che da parecchi anni abbiamo votato in due referendum non nucleare quantomeno abbiamo deciso in tempi non sospetti di abbandonare quella 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 fonte di energia perché poi le scorie delle centrali chiuse decenni fa oggi o ancora oggi abbiamo difficoltà e non sappiamo bene dove dove stoccarle come stoccarle ma poi vorrei vedere salvini a dire fatela va a dire la facciamo a cremona a mantova napoli a salerno voglio vedere le popolazioni e difatti marilena e questa è la conclusione che io farei dire il nucleare di salvini dice salvini pensi al futuro dei suoi figli è proprio questo marilena i genitori prima di tutto o meglio i politici prima di tutto sono anche genitori e io a mio figlio e spero che anche salvini lo dica i suoi figli ragazzi miei che non mi puoi dare il nucleare come futuro per il rischio che comporta il rischio che comporta e per le scorie che poi devi mettere da qualche parte e neanche il nucleare di ultima generazione che non esiste ancora ma esisterà da 10 anni comunque andiamo avanti siamo già arrivati abbondantemente oltre i 20 minuti eccoci qua l'ultimo argomento l'ultimo argomento diciamo è quello più attuale qua però voglio che mi facciate un sacco di domande io in questi giorni la settimana scorsa queste ultime settimane ho lavorato in commissione affari costituzionali sul decreto green pass 4 ed è proprio il decreto che ha sancito entrate in vigore ad ottobre come sapete i decreti entrano in vigore subito ed entro 60 giorni devono essere convertiti dal parlamento sull'utilizzo del green pass per poter andare a lavorare entrare nei luoghi pubblici nelle luoghi di lavoro pubblici e privati però vi volevo far vedere ci sono state le proteste per l'amore del cielo sappiamo i disagi che ha creato il green pass lo sappiamo tutti eh ma anche per chi come me vaccinato e per chi come l'ottantacinque per cento della popolazione italiana da vaccinare sopra i dodici anni lo ha fatto quindi la difficoltà è di prendere il telefono tiri fuori il tuo QR code ogni volta a me andare in senato entro dieci venti volte al giorno devo continuare a presentarlo ed è un disagio ma ci sono chi non ha chi non ha fatto il vaccino deve fare il test questo test dura quarantotto o settantadue ore a seconda del tipo di vaccino è un bel impegno però volevo farvi vedere adesso se trovi gli articoli in altri paesi cosa stanno facendo per i no eh coloro che non si sono vaccinati leggete qua questo dico anche a chi eh anche legittimamente non parlo dei 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 complottisti non parlo de eh di quelli che ritengono che sia tutto un complotto non li voglio neanche considerare contro informazione ragazzi è nata proprio perché ho iniziato a leggere dei commenti sotto i post del lavoro che faccio e che comunico sui social che andavano dalla rabbia al complottismo e alle fake news siamo qua per raccontarvi questo cioè leggete cosa sta succedendo in eh Austria e a Singapore Singapore leggo proprio quel pezzo qua del Corriere della Sera nega le cure mediche a chi ha deciso di non vaccinarsi per scelta ed è uno dei paesi che sta punendo che che punisce che puniscono i Novax in Austria c'è stato un aumento vertiginoso dei casi e anche qua e sapete perché sono molto ma molto al di sotto delle della percentuale di vaccinazione che abbiamo in Italia quindi stanno introducendo tutta una serie di restrizioni come quella del lockdown per i non vaccinati allora io dico si può tranquillamente essere io stesso non sono pienamente d'accordo col Green Pass perché va rimodulato adesso vi dico cosa abbiamo fatto Paola Castellaro ci dice di sto passo finiamo lì anche noi Paola probabilmente no perché l'Italia è stato un modello a livello internazionale non solo europeo di paese nella gestione del covid Rosanna ci dice per il Green Pass sul lavoro lo ritengo giusto un rispetto verso gli altri che lavorano nello stesso ambiente esatto non si è messa l'obbligatorietà della vaccinazione ma si è spinta questa è stata la volontà del governo la vaccinazione attraverso queste queste condizioni Michele Allegretti ci dice una cosa giusta Michele hai ragione mettete il tampone gratuito Michele e a tutti quelli che ci stanno seguendo voi non abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti sulla gratuità dei tamponi la risposta è stata all'interno del senato ma ovunque nel palazzo che la la risposta del governo è la motivazione per cui il governo ha deciso di fare di introdurre il Green Pass è quella di e di non metterlo gratuito è quella di spingere le persone a vaccinarsi mantenendo la libertà di scelta che se non mi vaccino faccio il tampone noi abbiamo chiesto però e questo vi dico è molto importante ed è una novità assoluta perché è capitata pochissime ore fa e sta adesso per essere approvato in prima lettura qua al senato abbiamo fatto approvare un impegno grazie a un ordine del giorno che è una sorta di emendamento trasformato in impegno del governo da parte della catalfo la nostra ex ministra del lavoro e di tutti noi delle del movimento per cui il governo si impegna a ad abbassare ancora di più il prezzo del tampone dei test alle persone alle famiglie con i redditi più bassi perché quelle che esprimono queste famiglie quindi con redditi bassi almeno avranno ne abbiamo messo 4 5 euro non 15 avranno la possibilità di farsi loro i loro due tamponi i loro due tamponi a settimana per poter andare al lavoro allora vi sto stiamo parlando del green pass perché si fosse collegato adesso vorrei che mi faceste una serie di domande anche critiche su questo green pass però vi chiedo anche una cosa che alternativa avreste trovato soprattutto per chi è in totale disaccordo con l'utilizzo del green pass appunto il green pass stesso rosina cerci ci dice mi spieghi perché figliolo va a cena con un medico sotto indagine perché ha fatto dei green pass falsi allora rosina io qua torno al primo argomento che abbiamo trattato in questa nuova diretta che quello delle querele quindi io ti posso semplicemente rispondere chiediamolo al generale figliolo perché se mi metto a esprimere opinioni mie personali qua mi becco un'altra querela e bisogna devo come 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 voi ovviamente devo stare molto ma molto attento l'alternativa del green pass quale sarebbe susi ci dice susi sarnataro non creda che questo green pass possa portare una guerra civile visto che hanno chiuso anche le piazze per non far manifestare allora io ti vi dico sinceramente io sono ve l'ho già detto cremonese crema è a cinque chilometri codogno e a 15 chilometri la diffusione del contagio a inizio 2020 nasce in casa mia ci sono stati morti all'interno delle rsa che hanno praticamente sterminato fino ad un terzo di media i pazienti dei genti in queste case di riposo non vi dico le migliaia e migliaia di morti che ci sono stati solo nella mia provincia di cremona detto questo se oggi non avessimo fatto quella campagna quell'organizzazione politica seria ricordiamolo che racconta e organizzarla è manuela manueli ci chiede mi chiede danilo io due vaccini ma col secondo vaccino sono stata molto male ho paura del terzo manuela concludo discorso e ti rispondo allora se non avessimo fatto quella campagna quello quella gestione politica fatta da conte quando è scoppiata la pandemia basata sui dati scientifici se non questa cosa non fosse andata avanti con draghi ma dove saremmo oggi ma dove saremmo oggi ma avete visto quello che sta accadendo in austria gli aumenti dei contagi delle morti in germania in germania se noi abbiamo l'ottantacinque per cento di popolazione vaccinata in germania sono al 61 per cento in grecia sono al 61 per cento in germania a 67 uriel siciliano ci dice non c'è alternativa al green pass solo il lockdown allora uriel sono d'accordo purtroppo sono d'accordo perché o mettiamo il green pass che serve per poter tornare a vivere con degli obblighi che sono complicati in alternativa c'è il lockdown annito foini ci dice caro danilo mio figlio non si è vaccinato e fa ogni due giorni il tampone alle mie rimeostranze mi risponde come mai non lo rendete obbligatorio perché si è deciso perché il governo ha deciso di di mantenere la libertà di scelta ma soprattutto e questo ve lo dico perché l'ha ripetuto in tutte le occasioni l'impostazione della della gestione della pandemia da parte di conte nel nel conte 2 quindi all'inizio soprattutto del 2020 è stata quella di un patto sociale di un patto tra il governo e l'istituzione il governo che nella persona di giuseppe conte diceva gli italiani ho intenzione di chiudere per questo quest'altro motivo scientifico e gli italiani stessi e questo patto di fatti non c'erano proteste vi ricordate non c'erano proteste tutti noi ci siamo chiusi in casa accettando questa cosa mai vista prima e poi il patto sociale tra il governo e i cittadini è continuato con le vaccinazioni siamo il paese che ha la percentuale di cittadini residenti eh maggiore per vaccinazioni fatte questo è un patto sociale se tu metti l'obbligo significa che viene meno il rapporto di fiducia tra il governo che ti dice di fare una cosa in quanto obbligatoria e il cittadino che la deve fare e quindi si deve andare avanti in questa maniera il governo cosa ha pensato di spingere per convincere i cittadini a vaccinarsi attraverso uno strumento che prima ti limitava la socialità il bar il cinema il ristorante e che poi ti va a limitare anche la possibilità del lavoro e ed è un difficilissimo diciamo eh contemperamento scusatemi la parola tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro e questo è quello che è stato fatto spingere le persone a vaccinarsi se non lo fai comunque devi avere un certificato attraverso un tampone difficile certo lo sappiamo che c'è un grande disagio genet ci dice che vaccinato può contagiare quindi in green pass è inutile non pensi no in questo caso è vero che può vaccinare che può contagiare è assolutamente vero però ragazzi per me l'indicatore più importante è quello delle morti dei contagi e dei letti di terapia intensiva e quelli sono esattamente molto ma molto ma molto meno impegnati e più vuote rispetto a qualche mese fa grazie al vaccino massimo ci dice siete d'accordo alla vaccinazione dei bambini sotto i 12 anni massimo qua una grande questione perché si aprirà il dibattito ti ringrazio anzi io lo chiedo a voi prima di dare la mia opinione siete d'accordo a voi che siete collegati con l'estensione della vaccinazione ai bambini tra i 5 e 12 anni forza abbiamo centinaia e centinaia di commenti oggi e ve ne sono infinitamente infinitamente grato la ditemi la vostra sui sui vaccini ai bambini sotto i 12 anni se non arrivano giuliano ciardo dice no quindi prima un no francesco cavallaro per me i bambini non devono vaccinarli forza mirco dice no gaia dice no insomma fulvia isonni dice no viviana provenzale noi bambini no gennaro mennea no mario lupo il primo sì maria luisa dice bambini non si toccano tormina rosare dice no maria giovanna mi state dando un bel mandato eh angelo dice se i medici autorizzano sì giuseppe d'alessio dice no al mio nipo al titolo non lo farei giorgio dice assolutamente no giuseppe no bruna io aspetterei dati scientifici marilena dice no allora ragazzi è un plebiscito per il no o quasi anche se raffaella renzi che ringrazio dice sì angela romano dice no ai bambini mohamed dice no allora ragazzi è un anche carlo carlo strozzi anche lui è un no mi state dando un mandato io sono un portavoce ragazzi e e quindi devo per forza ascoltare le opinioni e caterina berardi dice devono dirlo i medici sì ragazzi la linea è devono dirlo i medici e finché gisella dice no si dovrebbero prima vaccinare tutti gli adulti bravissimi voi continuate a dire la vostra eh Davide dice Davide Varrica i bambini vanno vaccinati lo devono dire i medici intanto è ripresa la seduta in senato quindi ancora pochissimi minuti ma siamo già arrivato a trentasei eh non abbiamo scelta dice Lucia Chiapperini se non fidarsi del comitato scientifico sì dobbiamo fidarsi del comitato scientifico italiano dobbiamo fidarsi Raffaella Mondelli dice no dei comitati scientifici internazionali dobbiamo prima domandarci ovviamente che non ci siano lì eh nessun tipo di finanziamento fatto ai vari comitati scientifici eh da parte di alcune multinazionali farmaceutiche ovviamente perché non deve esserci alcun tipo conflitto di interesse questo deve essere sempre detto Rita Bosco ci dice che ha fatto il vaccino farà la terza dose ma ha paura per i bambini troppo piccoli dobbiamo affidarsi alla scienza e poi però la politica deve decidere eh quindi prima di esprimere un'opinione la scienza ci deve dire con certezza che i nostri bambini devono eh siano completamente protetti e che il vaccino per loro Tormina dice no Loredana dice no insomma penso che siamo Gatti dice sì Sebastiano dice no siamo per un ottantacinque novanta per cento per i non quindi io chiuderei diciamo questo voi continuate a commentare ma direi dati scientifici quindi la scienza medica ci deve dire se è necessario e utile farlo ma ci deve anche dire perché perché è utile perché voi sapete che i miei figli hanno avuto entrambi il covid pochissimi mesi fa noi in famiglia siamo stati per 15 giorni in quarantena loro eh sono stati a casa per un sacco di tempo hanno messo la loro classe in in quarantena insomma una cosa assolutamente complessa e però i dati scientifici ci dicono voi me lo confermate che pochissimi solo quelli che hanno eh patologie pregresse hanno eh rischi per la salute in seguito al vaccino quindi eh la scienza medica ci deve dire se è utile il vaccino perché considerato che per i bambini considerato che per i bambini il vaccino è poco più che una piccolissima influenza Franco Verdi si dice ma tutti i politici sono vaccinati penso proprio penso proprio di no e spero che quelli che non sono vaccinati che entrano al senato si paghino il tampone perché è inaccettabile scusate se mi incazzo ma è inaccettabile che a differenza dei cittadini italiani che vanno a lavorare nel pubblico nel privato che non si sono vaccinati e hanno il green pass da tampone questi se lo pagano mentre i politici no quindi questa è una cosa che sinceramente qua non si sa neanche però secondo me ci sono alcuni che non sono che non eccoci ci siete c'è stato un piccolo problema tecnico probabilmente la wifi del senato eccoci qua c'è ti siamo tornati siamo tornati siamo tornati scusate ragazzi per il piccolo disguido tecnico stavamo parlando di vaccini per i bambini sotto i 12 anni voi tornate a collegarvi per favore così finiamo perché il discorso è delicatissimo eh perché chissà quante altre dirette faremo nei prossimi giorni sul vaccino ai bambini tra i 5 e i 12 anni scienza medica ci deve dire perché è necessario considerato che ai bambini il covid a quasi tutti i bambini il covid non fa praticamente niente piccola febbre per un giorno un po' di tosse un po' di raffreddore e poco più perché laddove qua vi chiedo anche chiedo l'opinione perché la maggior parte di voi mi ha detto che non vaccinerebbe i bambini sotto i 12 anni ma se la motivazione è quella di limitare il rischio di contagio per purtroppo i milioni di italiani adulti soprattutto gli over 50 e ancora di più gli over 60 quindi vaccino vacciniamo i nostri bambini di 5 7 10 o 12 anni per evitare che un 50 60 80enne Marcello ci dice come hai nominato i politici ti hanno chiuso eh Marcello potrebbe anche essere potrebbe anche essere ehm ti stavamo dicendo se dobbiamo evitare di contagiare chi non si è vaccinato di adulto o over 50 60 attraverso la vaccinazione dei bambini io spero che il movimento 5 stelle si opponga perché non possiamo pensare di vaccinare i nostri bambini per non contagiare chi da adulto ha deciso di non vaccinarsi quindi tutto un discorso enorme e penso che che daremo battaglia solo i bambini mi dice Francesca Maria Biagi mi dice solo i bambini con patologie gravi ovviamente quelle le conosciamo e quindi dobbiamo in quel caso ovviamente intervenire ma lì è un qualcosa di di medico insomma questa è la situazione noi dentro il dentro il senato nella commissione affari costituzionali vi dico e poi concludo che abbiamo veramente sforato abbiamo ottenuto un po' di risultati innanzitutto ve li ve li ve li dico velocemente se tu hai il tampone il scusatemi il certificato verde green pass valido quando entri al lavoro inizi il tuo turno anche se ti scade durante l'arco della giornata lavorativa tu sei a posto e puoi terminare tranquillamente il turno di lavoro questo l'abbiamo preteso in commissione perché era una qualche cosa di non chiaro entri col tampone che mi scade dopo due ore mi mandano un controllo e mi sanzionano pure cosa folle abbiamo ottenuto anche una cosa molto molto importante che uno è l'impegno del governo ad abbassare i prezzi dei tamponi per le famiglie più povere ma abbiamo anche ottenuto un'altra cosa molto importante che è quella dei lavoratori all'aperto che è un impegno però purtroppo l'emendamento non siamo riusciti a farlo approvare che da il green pass o esenta dal green pass coloro che lavorano in un ambiente completamente aperto quindi un lavoro esclusivamente fatto all'aperto in quel caso il lavoratore non deve esibire il green pass la stessa cosa ascoltate bene perché è importante perché ci sono tante 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 persone che lavorano da casa il telelavoro il lavoro agile anche per loro abbiamo ottenuto l'approvazione di un chiarimento di un ordine del giorno dove il governo si impegna a fare che cosa a dire chiaramente che mi pare una roba ovvia però purtroppo ovvio in questo paese c'è ben poco che chi lavora da casa non deve esibire il green pass non è necessario che abbia il green pass ultimissima cosa e poi vi saluto e vi ringrazio ovviamente se avete domande sono ancora qui a rispondere il il serologico che è quelle quell'esame che ti permette di arrivare a conoscere il tuo livello di anticorpi anche qui noi abbiamo detto al governo ma se ci sono anticorpi perché mi sono ammalato di covid e la scienza mi dice magari mi dice domani che questi anticorpi sono dello stesso valore della stessa entità immunizzante di quelli che mi si sono creati grazie al vaccino diamo il green pass anche a chi è stato eh contagiato ed è guarito visto che ha gli anticorpi quindi il governo col ministero della salute si impegnerà a verificare se effettivamente esiste questa cosa cioè un'immunità naturale che ti immunizza appunto dal covid questa è stata una lunghissima puntata di oggi Emanuele ci dice perché nei centri commerciali non viene chiesto il green pass ognuno ovviamente ci sono un sacco di diversificazioni ma la razza è sempre la stessa il green pass serve per entrare in luoghi pubblici e privati non te lo chiedono sempre ma te lo chiedono a campione questo è il modo di ehm organizzarsi niente anche questa terza puntata di controinformazione è finita spero di aver risposto correttamente per quanto possibile alle vostre domande io vi ringrazio infinitamente rilanciate anche dopo la fine della puntata questa questa rubrica di informazione perché credetemi che in questo momento di apatia politica c'è veramente poca informazione l'unica informazione è quella che vi dice e ci dice che va tutto benissimo non va assolutamente grazie 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 giuseppe dei complimenti grazie infinite di di avermi seguito anche stasera in questa cosa che per me è molto importante perché stiamo e sto condividendo tutto quello che è l'attività che dalla mattina alla sera facciamo in parlamento e che dalla mattina alla sera grazie rita facciamo collegati via zoom in riunioni infinite anche anche notturne quindi ci vediamo nei prossimi giorni si saranno sicuramente un sacco di argomenti come come oggi continuate a commentare commentate anche successivamente noi leggendo i vostri commenti potremo magari iniziare un'altra puntata con le domande che avete fatto grazie infinite ciao manuela ciao giuseppe grazie infinite grazie aver seguito anche questa terza lunghissima puntata ciao a presto